Ora basta. È questo il grido che si leva e che si legge a carattere cubitali. La voce è quella delle varie sigle sindacali che all'unisono lanciano un appello inequivocabile. La protesta parte dall'Istituto Penitenziario di Lecce e presto raggiungerà anche altre città pugliesi. Gli agenti dicono basta alle innumerevoli aggressioni subite e c'è anche qualcuno che porta ancora i segni della violenza subita. Basta ai turni massacranti e ferie non godute. Basta al sovraffollamento nel carcere di Lecce. Ci sono attualmente 1.200 detenuti a fronte. Dei 796 previsti, quasi il doppio. Io voglio fare un plauso a tutte le sigle sindacali qui presenti. Siamo il 100% delle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria. Noi chiediamo un intervento immediato delle istituzioni, della politica e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Abbiamo un provveditore assente e silente dove noi diamo la responsabilità dello sfascio della Puglia perché accetta detenuti da tutte le parti d'Italia. La carenza di organico è ormai cronica da 718 unità del 2014 e 581 previste dal decreto ministeriale del 2017 ai 609 attuali ma con l'apertura nel frattempo di un nuovo padiglione da 200 posti letto per detenuti. Veramente la situazione è diventata esasperata. Abbiamo assistito negli ultimi anni ad aperture di nuovi padiglioni e della capienza anche di diverse centinaia di detenuti. Questo non ha comportato poi l'arrivo di personale come era previsto ma addirittura abbiamo visto anche diminuire il personale. Di conseguenza oltre a turni massacranti, posti di servizio accorpati, ferie non fruite e tanti altri problemi legati proprio ai diritti che vengono quotidianamente negati ai lavoratori. Le richieste di tutte le sigle sindacali messe insieme sono chiare e soprattutto dirette. Questa volta si attendono risposte perché la situazione è decisamente critica e complicata e potrebbe presto degenerare con conseguenze facilmente immaginabili. Noi oggi chiediamo alla nostra amministrazione, al governo esecutivo che ci vengano garantiti i nostri sacrosanti diritti. È una situazione veramente disumana dove i colleghi hanno accumulato 120-150 giorni di concedo e non gli viene garantito il giusto riposo. Nemmeno nel periodo estivo quando comunque uno deve garantire almeno quel recupero psicofisico nella stagione più favorevole magari per riposarsi. È giusto che al nostro corpo venga data la nostra dignità, quella che da un po' di tempo a questa parte ci è stata tolta.